Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della compatibilità in amore della coppia Sagittario-Scorpione in amore. Allora, i Sagittario-Scorpione in amore hanno un'affinità amorosa molto bassa. Lo Scorpione spesso è un segno pessimista che vede il bicchiere mezzo vuoto. Al contrario, il Sagittario è un segno più ottimista che vede il bicchiere sempre mezzo pieno e sorridente. Sono due personalità diametralmente opposte e non hanno affinità. Diciamo che il Sagittario stimolerà in alcuni casi lo Scorpione a credere un po' di più nei suoi progetti e a sfruttare le sue potenzialità. Però, diciamo, lo Scorpione patisce molto questa esigenza di libertà totale del Sagittario. Lo Scorpione è un segno che vuole comunque avere sotto controllo la relazione. Poi questa un po' di infedeltà del Sagittario lo Scorpione non la tollera. Ha bisogno di una passionalità costante. Entrambi sono caratteri forti e faranno la guerra l'uno con l'altro. Il Sagittario farà la guerra allo Scorpione che dal canto suo, diciamo, non esiterà, diciamo, a controbattere. In amore questi due segni sono pressoché incompatibili, cioè una relazione che proprio non funziona. Il Sagittario troverà lo Scorpione troppo negativo, un guastafeste, a sociale, e lo Scorpione vedrà invece il Sagittario come eccessivamente superficiale, mondano, inaffidabile. Quindi coppia che è negativa, non funziona. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti a questo nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto. Il link è in descrizione. Ciao a tutti.